Ragazzi, finalmente ci siamo, la puntata più attesa della nuova stagione della casa di carta, più attesa della nuova stagione di Lupin, più attesa di qualsiasi cosa e finalmente è arrivata. Oggi siamo qui su FM 2021, andremo a vedere le due partite contro la Juventus Under 23 nell'andata, terzo turno, playoff della Lega Pro. Loro sono finiti in classifica al quarto posto, se non erro, anzi lo andiamo a vedere subito, sì, quarto posto nel girone A, a ben 64 punti. Quindi a livello di punti siamo là, quindi non ci distacchiamo troppo come qualità della rosa juventina. Come avete giustamente scritto voi, bisognerà vedere se adesso non vanno a prendere gente dalla prima squadra e capite bene che gioca contro gente dalla Juventus prima squadra. È abbastanza complesso. Dunque, io ci credo, devo dire la verità, non inizio a sperare. Se me l'aveste chiesto 5-6 episodi fa vi avrei detto voi siete pazzi e non ce la faremo mai. Oggi, grazie anche alla nostra qualità di gioco, devo dire che qualche speranza la inizio a nutrire. Ovviamente abbiamo anche la nostra acqua magica che ormai non può mancare. E' un appuntamento fisso e il nostro nuovo portafortuni, il nostro talismano per tutte le partite che fin quando ci porta bene qui la teniamo e non si muove. E basta, vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo già al giorno della partita? Sì, siamo arrivati al giorno della partita. E adesso il tono si fa più serioso anche perché io sono emozionato. Poi sapete bene che mi inizio a sbarellare anche mentalmente. Quindi cerchiamo di mantenere un basso profilo. Allora, Scanagatta è infortunato. Mettiamo schiavi. No, ho detto schiavi. Grazie. Lo leviamo. Non è infortunato, anzi è squalificato. Pagliera torna. Lo mettiamo al posto di Papa. Probabilmente non sarà in grado di fare 90 minuti. Lo andremo sicuramente a sostituire strada facendo. Poi, basta. Io direi basta. La formazione è sempre quella classica. C'è Pegorino che nella realtà, a quanto pare, sia andato proprio alla Juventus Under 23. Oggi è qui pronto a punire i suoi nuovi compagni. Pagliera non è in grado di fare 90 minuti. Lo sappiamo. Andiamo alla partita. Vediamo la Juve come si va a schierare. Allora, andiamo qua allo spogliatoio. Lo vediamo direttamente dalle formazioni. Stiamo giocando spalla a spalla con la Juventus Under 23. Per cui voglio che lasciate il segno. Ok, vediamo. Questi, ovviamente, siamo noi con il nostro 4-3-2-1. Vediamo la Juve come si va a schierare. Buffon in porta. Perfetto. Chi è lì in difesa? Eh, questa sarà difficile, raga. Questa sarà veramente difficile. Abbiamo il vantaggio, tra virgolette, di giocare in casa. Quindi, questa partita ci dirà molto di quello che sarà il nostro destino in questa mini-competizione. Intanto c'è Schiavi. Cerbara per Paghera. Il filtrante proprio per Pecorino. No! Non l'ho, non l'ho. Perché? Annullato. Non era annullato. Perché? Vabbè, di poco. Però, insomma, beh, poteva saltare. Poteva anche far finta di non vedere. Però c'è ancora il Ravenna che sembra essere sceso in campo con il Pio giusto Schiavi. Eh, appunto. Sbaglia subito il passaggio di Vinter. La spazio dove però non c'è nessuno. C'è Perri, Feradovic, Lodi. Ancora per Perri sull'auto di sinistra. C'è Pecorino che stavolta non gliela annullate. A Pecorino. Non due su due. Però è l'acqua amicata. Ma che me frega. Due a due. Una a zero. Oh! Sette minuti. Dai! Bellissima qua la triangolazione Lodi-Perri-Feradovic. Poi Perri anche di destro va a trovare un barco magico proprio per lui. Proprio per l'uomo della provvidenza. Emanuele Pecorino. Due gol annullati. Anzi, un gol annullato e uno regolare. Staremo già sul due a zero dopo venti minuti. È tanta roba, ragazzi. Dai, eh? Ragazzi. Domeniamo di più. Dai, dai, dai. Dobbiamo mantenere la concentrazione un due a zero. Sarebbe perfetto. Eccolo qua. Ti prego, ti prego, Perri. Prezioso. Mezzo Lodi. C'è Schiavi dell'altro lato. Il contro-cross. Che sbaglia. Ancora però c'è Schiavi. Dov'ai? Oh. Il cross in mezzo. Pecorino! Ma di nuovo no! Ma questo no! Questo è accanimento questo è. E basta! Ma dai! Questo proprio era di un filo. Ma sto guardarino è sempre là. Sta a guardarmi. Non può telefonare qualcuno nel frattempo. E che palle! Ravenna padrone del campo, ragazzi. Non mi dite niente. Perché qua se non si passa io veramente mi nervosisco serio. Ecco, intenda. Chiellini. De Winter. La Juve adesso fa valere la propria superiorità tecnica. Con Wesley. Raffia. Le mette in mezzo. Ancora Wesley. Bravissimi! Bravissimi! Non so che è successo ma va benissimo. Va benissimo! Riusciamo a respingere il primo attacco bianco-nero. Finisce il primo tempo. Abbiamo strameritato questo vantaggio. Dovremmo essere 3-0. Ma purtroppo il guardarini oggi ha deciso di avere l'occhio bionico. E quindi, niente da fare. Lodi è un po' stanco così come Cerbara. Andiamo ancora una volta a chiedere concentrazione stavolta alla squadra. Comunque vada, ragazzi. Ce la giocheremo al ritorno. Adesso c'è Perry. Un raddoppio, come detto, sarebbe fondamentale arrivati a questo punto. Perry. Mamma mia! Ma che cos'è? Ma che cos'è? Che cos'è? Ma io resto scioccato! Shock! First reaction shock! Qua ci sta tutto! Ma che ha fatto? Ma che era un crow? Non ho capito! Ma che era tutto storto! Ma io lo amo! Lo amo! Il presidente della repubblica e questo lo faccio! L'acqua, ragazzi, è magico! Ve l'ho detto! Ma che culo! Vabbè, ogni tanto ci sta dopo una stagione vissuta tra la mistizia e la disgrazia. Perdonatemi se è un po' di culo e ci arriva pure a noi. Perry, l'uomo... Niente, il sinistro magico. Mi sembrava Roberto Carlos dei Tempi d'Oro. Oddio mio! De Winter! No, 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 no! Nontò! Mamma mia! Te prego! Ragazzi, sarebbe fondamentale riuscire ad arrivare e finire questa partita sul 2-0. Allora, allora, con calma. Mentre la gioca non succederà nulla, giusto? Probabilmente no. Allora, mettiamo Papa per Paghera che, come detto, torna da un infortunio, quindi non è al massimo. Vricchis per Piazza. Giusto? Giusto. Ok, per adesso va bene così, dai, e... Dovremmo sostituire anche Schiavi, ragazzi, quel cartellino giallo messo là non mi convince per nulla. Schiavi, proprio lui. Paghera. Lodino. Prezioso. Cerbara. Pecorino. Piazza. Prezioso. Bellissimo! Oh, ti prego! E basta con questi fuori giochi, però. Ma sempre ogni azione. Mamma mia, che ignoranza, oh! Lodi è stanchissimo, ragazzi. Andiamo a cambiare... Vabbè, è finita questa azione. Tignonto. Tutto solo. Ma andò vai, Agnonto, ma smetti, non lo fai il serio. Oh, dunque, dunque, dunque. Adesso mettiamo il buon Gidai per Lodi. Io credo che Papa possa andare a fare il regista, sì, a 11. Mazzate che pipa che Papa. Anche prezioso, sì, mettere prezioso. E Gidai va a fare il quantità, Papa va a fare l'incontrista. E poi metterei anche Vanacore per Schiavi, ragazzi. Leviamo sto cartino giallo, per carità, perché sennò sto con l'ansia. Cerbara. Attenzione! Niente, c'è in tenda che la mette in corner. E anche Cerbara, però, è parecchio stanco. Vediamo, facciamo finire questa azione, però probabilmente non abbiamo più cambi. Cartino giallo per De Winter. Miretti. Ancora la Juve in avanti. Gnonto, Vesley, te prego. Ti sopplico, ti scongiuro. Grande, grande difesa, ragazzi. Un muro rosso a protezione di Yumdall. C'abbiamo un altro cambio? Aspetta. Uno, due, tre, quattro. Sì, 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 sì. Allora, Cerbara esce ed entra. Alessio Sestu. Ricordatevi questo nome, perché sarà lui che andrà a risolvere la partita. Perry è prezioso, sono altrettanto stanchi, però purtroppo non ne posso cambiare tutti. Dametto. Ve prego, 3-0. Io veramente mi metto a piangere. Vi prego. No, 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 no. Sì, 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 sì. Vricchis, attento, Perry. Precorino. Vricchis. Pecorino, ti prego. Niente, Buffon. Ma poi vanno pure Buffon. C'è che avrà 60. Quanta anni avrà Buffon? No, 60. Quanta anni ha? Sestu. Mi sento male. Sto male, sto male, ragazzi. E ancora c'è il ritorno. Figuriamoci il mio stato mentale. Quando andiamo ad affrontare il ritorno. Intanto, signori, il 2-0 ce lo si porta a casa. Andassimo adesso a segnare in casa loro, sarebbe proprio il non plus ultra. Dunque, mani sui fianchi. Una bella vittoria. Ripaghiamoli con la stessa moneta la prossima volta. Quindi vediamo anche in là, proprio. Vediamo nel futuro. Ci stiamo dicendo, avete vinto, ma state attenti perché non è ancora finita. Visto che c'è il ritorno. Perry del Ravenna in forma. Mazza, Perry ha fatto un qualcosa. Non si è capito. Non credo che fosse voluto quel gol. Sinceramente credo che fosse un cross sbilenco. Però, ragazzi, a volte non tutti i mali vengono per nuoscere, come si suol dire. E quindi, signori, andiamo avanti. Anche perché siamo praticamente arrivati. Visto che la partita arriva due giorni dopo l'impresa, se vogliamo, del Ravenna contro i Bianconeri. La Juve, come sappiamo bene, è anche un po' una squadra che abbiamo bottuto spesso anche nell'edizione precedente con il Catania. Anche quando il Catania non era ancora un top team. Quindi è una squadra che ci porta abbastanza bene, diciamola tutta. Siamo arrivati intanto al giorno della partita. Non mi vogliono i miei amici giuventini. Però, nel gioco, fatemi vincere. Almeno qua, signori. E datemi questa soddisfazione. Allora, l'Odi purtroppo non è in forma. Perry, ragazzi, lo dobbiamo togliere. Mettiamo l'Omonino. Voglio, i ragazzi, almeno a livello fisico, al 100%. Resterà soltanto l'Odi perché sappiamo bene quanto sia importante. Poi lo andremo a togliere a partita in corso, ovviamente. Basta, qua ci siamo, ragazzi. La squadra per il resto c'è. Confermiamo la formazione. L'Omonino e Cerbara non sono a posto. Vabbè, lo sappiamo. Andiamo. Voglio vedere se la Juve si presenta sempre con la stessa formazione. La vediamo qua, però. Intanto andiamo a dire che non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo tutti. Dimostriamo tutti di cosa siamo capaci. Allora, del Fav... Portanova... Beh, beh. Almeno c'è solo Buffon e Chiellini. Abbiamo fatto due gol con Buffon e Chiellini in porta, signori. Non so se ci rendiamo conto. Cioè, Buffon era in porta, ovviamente Chiellini era in difesa. Vabbè. Mi avete capito. Scusate, ma sono un po' emozionato. Attenzione, c'è Rafi che la mette subito dentro. Perfetto. Dopo nove minuti. Eh, questo, raga... Eh. Ci va a creare qualche piccolo problema. Perché dopo nove minuti già andiamo a subire gol. Capite bene che... Non è il massimo. Ancora, calcio d'angolo. La mette in mezzo. Eh, che palle. Ferdinando del Sole. Dopo 14 minuti, la Juventus si porta sul da zero e va a pareggiare nel punteggio cumulativo. Wesley, ancora la Juve che sembra essere scesa in campo abbastanza incazzata. A dire la verità, ancora De Sole. Però stavolta è annullato. Eh, uno annullatelo pure a loro. Eh, sempre a noi. E dai ragazzi, forza. Dai, domandiamo di più. Salta qua. Dai, raga. Adesso c'è Lodi. La mette subito in mezzo. E Pecorino è sempre annullato. Ma che... Ma basta, ma veramente. Ma che è la sagra dei gol annullati? Ma che stiamo a vedere? Dai. Va, io a sto punto... Non esulto più, raga. A sto punto non esulto più. Tanto ogni gol è annullato. L'omolino. Ancora il Ravenna. Che vediamo se dopo queste due botte riesce a riprendersi Lodi. Per Pecorino mio. Niente. Quanto fastidio che provo internamente proprio. Un fastidio interno del mio corpo che non ce la faccio. L'omolino. Ancora per Lodi. Paghera. L'omolino. In mezzo. E Pecorino stavolta non gliela annulli. E ancora una volta. 2-1. E stavolta la Juve ne deve fare due ora. Credo. Se le regole valgono con il gol in trasferta, ragazzi. Spero che sia così. Perché se no sto ad impugnare Fragniaccia. Come lo solito. Ma su questo ci siamo abituati. Non ha neanche importanza adesso. Perché la cosa importante è che col D1 al 100% passeremo noi. Oh, è su questo. Non ci piove. Paghera. Ancora. Pecorino verso un 3-1 che chiuderebbe la partita. Piazza. Te prego. Piazzino mio. La mette. Netto. Netto. Oddio. Guarda. Guarda. Attraverso la bottiglia. Guarda. La chiudo. Guarda. Attraverso la bottiglia. Non vedo una mazza. Non vedo nulla. Ha segnato? Ha segnato? Ed è gol. Sì. Grande. Non si vede. 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 Non si vede nulla. Attraverso la bottiglia. Non ve lo consiglio. Ragazzi. Di vedere attraverso la bottiglia. Perché non si vedrà nulla. Però. Se porta fortuna. Fatelo. Ecco. 4-2. Signori. Non dico nulla. Ma secondo me. Secondo me. La Juventus. Ander 23. Se ne può tornare. Bellamente. A casa. Siamo davanti. Ragazzi. Restiamo concentrati. Quindi chiediamo concentrazione. Sto perdendo la voce. Ovviamente. Come tutte le volte. Ma va bene. Ugale. Riapriamo la bottiglia. Anzi. Bevo anche. Raffia. Ancora la Juve. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Va più che bene. Allora. Andiamo a fare qualche situation. Signori. Visto che. La squadra. Fisicamente. È a pezzi. Visto che abbiamo giocato. Due giorni fa. Mettiamo. No. Lui no. Lui è l'unico. Verente. Stavo a cambiare l'unico. Non stanco. Mettiamo. Paghera. Mettiamo Gidai. Poi Papa. Per Lodi. Visto che sul 4-2. Abbiamo raggiunto anche. Un risultato abbastanza. Tranquillo. Dal punto di vista. Del. Della. Della futura qualificazione. Poi. Vanacore. Dunque. Prezioso. Anche abbastanza stanco. Però non può essere cambiato. Va bene. Quindi lo teniamo qui. No. Stavo scherzato. Sbagliato. Vricchis. Per. Per nessuno. Per adesso ragazzi. Restiamo così. Ok. Perché dobbiamo fare i cambi? Non c'è bisogno. Per adesso restiamo così. Mancano ancora 30 minuti. Facciamo andare avanti il tempo. 8-5. Ragazzi. Ve l'ho detto. Me l'aveste chiesto. Cinque episodi fa. Vi avrei detto. Non se ne parla. Non abbiamo speranze. Adesso. Io. Davvero. Ci sto credendo. Devo essere onesto. Ci credo davvero. Quindi andiamo a mettere anche chi. Magari ha giocato meno. Tipo Khalil. Lo mettiamo come incontrista. Non me ne frega una mazza. Mancano 10 minuti. Devono fare tre gol. Sembra veramente un presagio apocalittico. Andiamo a preservare chi dovrà giocare le prossime due partite. Mettiamo anche Vacuo. Preserviamo Pecorino. Mancano 5 minuti. E ragazzi. Il sogno continua. Perché il Ravenna batte anche la Juventus. Anzi pareggia. Allo Stadium. Non so dove cazzo non la gioca l'Under 23. Ma il sogno va avanti. Sono felice. Mani sui fianchi. Abbiamo vinto la gara d'andata. E qui abbiamo chiuso la pratica. Dai ragazzi. Il Ravenna continua a sognare. La Serie B non è più un miraggio. Non sembra più di essere nel deserto. Quando si vede la palma. Lì l'Osi e l'orizzonte. Non lo è più. Perché questo Osi si sta avvicinando. Adesso ragazzi. Qua ci si crede. Ci si crede. Siamo convinti dei nostri mezzi. Andiamo avanti. Perché ovviamente voglio sapere. Io come voi contro chi andremo a giocare il prossimo turno. Eccolo qua. Oggi i sorteggi della Lega Pro. Vedi sorteggio. Dunque sono rimaste. Novara, Palermo, Pescara, Renate, Ternana, Entella e Francavilla. Quindi. Palermo. Potrebbe essere un derby mio personale? No. Pescara. Ok. Virtus, Francavilla, Ternana. Ok. No. Ravenna. Quindi o Novara, o Entella, o Renate. Vediamo un po'. Renate. Renate, Renate. Così pulite, così educate. Ok. Vediamo un po' dove il Renate si è andato a posizionare nel suo... Oh, al secondo posto. Eh. Qua sarà difficile, raga. Qua sarà difficile. Qua sarà difficile. Però è un secondo posto che è stato guadagnato con 67 punti. Ragazzi. Ragazzi, non ci scordiamo che il Ravenna, ovvero la nostra squadra, di punti ne ha fatti ben... Ben... 67. Quindi... E siamo arrivati in quinti. Quindi, ragazzi, o il nostro girone B è più competitivo rispetto a quello A, oppure, comunque, le forze delle due squadre sono abbastanza equilibrate, come dire. Andremo a esordire nuovamente in casa giorno 18 maggio, quindi tra sei giorni, quindi possiamo anche ripostare un po'. E poi, al solito, il giorno 22 ci sarà il ritorno. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Vedi i sorti... Ah, sì, per completarlo. Va bene, ok, ok, ok. Ah, no, poi questo è il turno successivo, quindi andremo, qualora vincessimo, contro Palermo o Pescara. Va bene, ragazzi, questo poi ci si penserà successivamente, qualora, appunto, andassimo a vincere. Fatemi sapere la vostra, è importantissimo qua sotto nei commenti, signori miei. Un bel like, una condizione, un'iscrizione per supportare questa squadra che, nonostante tutto, ci sta facendo sognare, perlomeno veramente ci sta facendo vivere grandi, grandi, grandissime emozioni. Io vi ricordo che in queste sere sto registrando di seguito, quindi non vi so dire adesso esattamente quando, però, in queste sere siamo in live sia su YouTube che sul sito Viola. Quindi, se volete passare a fare un saluto, mi raccomando, venite sempre alle ore, dalle ore 21 in poi. Io, ragazzi, vi voglio bene, spero che vi siete divertiti e ci vediamo domani con un nuovo fantastico gameplay. Ciao!